Siamo con Evo Dominoni della Fit4Fight Allora, il tuo allievo ha appena disputato un match che è poco entusiasmante e ha portato a casa una vittoria Allora, vediamo cosa ne pensa il diretto interessato Com'è andato il match? Io sono salito, noto quello che mi ha detto lui Quello non posso dire Sei contento del risultato che hai ottenuto? Sì, sì, ma sono contento anche solo di salire Com'è stato l'avversario? Bravo, molto bravo e ha delle gironcchiette davvero forti È stato più un match fisico o psicologico? Fisico Fisico Psicologico ormai non c'è più l'ansia Diciamo che allora hai portato a casa in pieno al 100% il risultato Sì, sì, sono contento di come è andato Senti, sei emozionato e sei felice della vittoria? Sì, sì, sì Vediamo cosa ne pensa il coach Elvio Sono bravi, sono bravi ragazzi e sono contento quando vincono loro Hai portato a casa tante vittorie? Oggi sì, dai, è andata bene con il light del pomeriggio Siamo un po' stagni, siamo guardati stamattina Beh, comunque le giornate sono queste Poi io credo che l'obiettivo sia sempre quello che Quando c'è l'attività e non ci sono danni fisici Che nessuno si faccia male È sempre un buon lavoro È un buon risultato È un buon risultato È un buon lavoro Perfetto, noi vi ringraziamo per l'intervista È un buon lavoro Grazie mille Elvio E alla prossima Grazie a tutti, buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti